URA! URA! Prima leggo questo! Non c'è la confezione da sé! In piedi! In piedi! In piedi! In piedi! Aspetta! Aspetta! E senza occhiani devi leggere! Eh sì! No! Un'emozione facile! Arrivano inizi a piangere! Una la gaia! Una la gaia! Facciamo le ballette qua! Zitti! Zitti! Allora! Chi legge per me? Lei! 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 Leggi teatro! No! No! Leggi teatro! No! 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 Stai qua! Leggila dai! Leggerissima Nadia! Togli gli occhiali perché se no... Non ci vedo! Urla però! Con il Buggie ci fai divertire! Con il Buggie ci fai viaggiare! Adesso di un amore Non ti stancare! No! Vogliamo dirti grazie! Grazie per la tua disponibilità! Per il tuo impegno! E soprattutto grazie per la tua ammucizia! Voce! che di momenti belli fa riunire questo gruppo di scherzosi pazzerelli con gioia e allegria tutti in compagnia Forever, gruppo ballerini Gita Bellaria, Capodanno 2016 sempre accompagnati da fotografi, DJ ufficiali grazie sempre più piccolo piano, che è fragile è fragile bello, grazie grazie ciao 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 Grazie per la vostra disponibilità, per la vostra pazienza, perché sicuramente quando andavate di là, sicuramente, da parte di tutti noi un piccolo pensierino. Grazie.